Le persone infelici temono il giudizio degli altri. Molte persone hanno una preoccupazione costante nei confronti delle opinioni e dei giudizi degli altri, al punto che, pur di non prestare il fianco a critiche o commenti negativi, magari social media, di fatti scelgono di non esporsi, rimangono dietro le quinte e finiscono per vivere un'esistenza estremamente limitata. Ma mi chiedo, perché precluderti interessanti esperienze e stimolanti novità o relazioni solo perché qualcun altro potrebbe fare dei commenti su di te? Questa è la premessa di un articolo tratto dall'Huffington Post, un articolo di psicologia spiccia probabilmente, ma che ha a che fare anche magari con la nostra crescita individuale, esistenziale e anche spirituale. Come superare questa abitudine di rimanere nascosti nell'ombra per evitare dei commenti negativi, dei unlike? Allora, prova a prendere consapevolezza del fatto che gli altri si preoccupano di ciò che dici e di ciò che fai molto meno di quanto pensi. Rilassati perché non c'è nessun riflettore puntato su di te. Cambia prospettiva. Invece di pensare costantemente a te stesso e a come gli altri ti possano percepire, prova a concentrarti e a concentrare la tua attenzione sugli altri, magari più bisognosi. Ascoltali, aiutali. E questo forse ti aiuterà a incrementare la tua autostima e a limitare la tua visuale egocentrica tutta concentrata sul tuo ombellico. Ciao, alla prossima! Grazie!